In Veneto l'ospite è sacro e questo lo sanno tutti, soprattutto i milioni di turisti che ogni anno affollano spiagge e monti, città e colline del Veneto, rendendolo la regione più turistica d'Italia. Un rapporto che verrà consolidato dalla possibilità di vaccinare anche i turisti, lo conferma il governatore Luca Zaia. So che noi faremo i vaccini ai turisti, non sarà un fiume in piena perché uno si programma le vacanze pensando a farsi anche il vaccino. Mi ricordo che la permanenza media in Veneto di tre giorni e mezzo, mi sembra sia, delle presenze. Questo vuol dire che uno non è che di mezzo anche si fa anche il vaccino, però è un atto di assoluta raffinatezza, di attenzione nei confronti del nostro ospite. Ci sono tre aspetti principali da tenere in considerazione quando si va a predisporre un piano così complesso. Ci sarà un riequilibrio immagino dei vaccini, allora noi servono due cose, i vaccini e dall'altro al turista serve che il certificato che comunque noi rilasciamo, come i nostri Veneti, sia riconosciuto dalla controparte della sua regione. Terzo aspetto fondamentale, vi annuncio già che i turisti che hanno bisogno del vaccino, garantiamo la forzatura del sistema col pulsante l'accesso diretto, cioè l'accesso diretto che si prenotano ma non a sei giorni entrano nel portale e se sono anche davanti al centro vaccinale, lo vedo così, siccome non saranno tanti, dico sto entrando, vedo di avvisare che sto entrando. Presentato inoltre il nuovo piano di sanità pubblica regionale che organizza in sostanza una gestione, si spera, ordinaria del periodo post-covid tramite campagne di screening, test in autosomministrazione, tamponi costanti per strutture sanitarie e RSA, contact tracing di eventuali casi o monitoraggio costante e diffuso della situazione.